pericolo ecco il tiro un'ottima serie di passaggi prova la botta un tiro che ha lasciato decisamente tirlo, attenzione, bretti occhio al tiro, partita equilibratissima parità assoluta prova a andare deve essere segnato, sarebbe saputo intercetta un pallone pericolosissimo grande recupero riflessivo non ce ne è complicato è il pallonezza ed è il gol bro e il pallone finisce il gol luce occhio al contratto ballo e arriva il calcio di rigore rigore calcio di rigore dunque rete non vai occhio di testa ed è rete tirlo e il pallone entra ed è il gol però il divario tecnico il pallonezza squadra è l'esilio è stato vero cittadino siamo nelle fasi finisce la gara non viene gli sfogliatori questa squadra non strada vero grande caparmi e taste è una ragione sempre più alla salvezza grazie a tutti